Mino Pecorelli è una sorta di cantore del delitto Moro, in uno dei suoi pezzi più famosi che è Bergogna Buffone, anticipa molti misteri su cui poi abbiamo lavorato in questi anni e parla del legionario De, che è sicuramente Giustino De Vuono. Adesso bisogna andare avanti perché se Moro è stato ucciso da un personaggio come De Vuono è diverso che se l'abbiano ucciso le Brigate Rosse.